Buongiorno, benvenuti, questa era la sedia stampa di oggi in 29 dicembre, vediamo i temi fondamentali di questa giornata sulla zuppa di porro, innanzitutto ovviamente la conferenza stampa fatta ieri dal Premier Conte, due ore e mezza di conferenza stampa, 38 domande, la seconda conferenza stampa con due cappelli diversi, quello giallo rosso e quello giallo verde, mettiamola così, sono sei i punti fondamentali che sintetizzo io per voi avendo letto tutti i giornali della conferenza stampa di Conte, uno, io non farò il mio partito, non solo, come dicevano ieri in discrezione, non voglio che altri lo facciano in nome mio, ma non farò nessun partito perché non ci sarà un Conte Ter, non ci sarà neanche una fine di questa legislatura perché dice, seconda questione che dice ieri Conte, questo è un governo che farà una maratona per fare tutto il fattibile fino alla fine di questa legislatura, cioè nel 2023. Terza cosa fondamentale, politica, le prese di distanza da Salvini, dice le idee di Salvini sono insidiose, le idee di leadership di Salvini sono insidiose, i commenti arriveranno dopo, vi dico gli altri punti. Quarto punto, insiste sulla lotta all'evasione, è l'unico modo per poter ridurre le imposte in Italia, l'ha detto anche Mattarella, lo ripete come si dice Conte. Quinto aspetto, ci vuole più pubblico nelle crisi aziendali, lo dice e lo nota oggi il sole. Sesto aspetto, sull'IVA, dice, mi sono trovato questa clausola di salvaguardia, come per dire, insomma abbiamo dovuto fare tutto di fretta e furia, ma è una cosa che mi sono trovato. Queste sono grandi linee, le cose che ha dette Conte ieri nella conferenza stampa e il titolo perfetto per tutte queste cose, ve lo dico senza infingimenti, è quello del mio giornale, di cui sono vice direttore, e cioè il giornale, il titolo è il seguente, il Conte balle, sono tutte balle e vediamo di smontarle una per una. No, al mio partito forse è la cosa più vera che ci sia in tutta questa vicenda, ma in realtà non è una negazione per un suo partito, ma è semplicemente che non c'è nessuno che voglia fare il partito di Conte, se ci fosse 100 deputati che facessero il partito di Conte sarebbe un po' stravagante pensare che lui non avesse un suo partito, ma il punto fondamentale è che le ipotesi di un partito di Conte nascono da alcuni scissionisti del Movimento 5 Stelle che si scindono dal Movimento 5 Stelle proprio per alcune cose che fa il governo di Conte, ad esempio Fioramonti che voleva fare il ministro di istituzione dell'università molla questo governo e lo crea e crea un sacco di pesticce e secondo voi sarebbe una cosa completamente normale che va a fare dopo che ha abbandonato questo governo? Un gruppo parlamentare ha fatto a favore del leader di questo governo, è vero che nel mondo vale tutto, ma questo mi sembra piuttosto ridicolo. L'altra questione su Salvini, sono pericolose le sue idee, qui uno verrebbe da dire come diceva Polito ieri, veramente ragazzi ma di che stiamo parlando? È stato il suo ministro degli interni e oggi come spiega Sallusti in un suo editoriale, quando Salvini e Di Maio non sapevano bene come cavarsela per riuscire ad avere un accordo di governo nel passato governo, trovarono questo avvocato che era il loro burattino e che oggi si è un po' montato alla testa ed è molto garbato, parla bene, quello che volete, ma è pur sempre il burattino sia di Salvini sia di Di Maio che l'hanno creato, ovviamente la riconoscenza non è di questo mondo, ma Belpi nota sulla verità che quello che non dice Conte ma che vuol far capire è che non è che le siano insidiose le idee di leadership di Salvini, ma che lo stesso Salvini sia un pericolo per la democrazia, cioè si sta accreditando incredibilmente Conte come l'uomo fatto da Salvini, Presidente del Consiglio insieme a Di Maio, uomo che ha gestito insieme a Salvini da politica dell'immigrazione, uomo che ha fatto lo scudomano a Salvini quando veniva indagato per reati tipo quelli di sequestro di persone per l'immigrazione, oggi diventa pericoloso Salvini. Fantastico un punto di vista invece politico che tira fuori i sallusti, ragazzi il punto fondamentale di tutta questa vicenda è che non esiste un leader di un governo occidentale che non sia passato per il voto degli elettori, dice giustamente qualcuno, sono dieci anni che non si votano, dal 2011 che non si vota, ma obiettivamente questo è il dato fondamentale e cioè che la debolezza di Conte nasce dalla debolezza dei partiti, debolezza dei partiti che utilizzano Conte per non andare a casa e la debolezza di Conte che ogni sua proposta, quelle che ieri ha detto i prossimi tre anni, per questo il contavalle, devono passare per un Parlamento che decide esattamente come vuole lui, ma secondo voi decide il Presidente del Consiglio o il Parlamento? È del tutto evidente che decide un Parlamento, come sempre è stato, ma con un Presidente del Consiglio che non c'è neanche un rappresentante in Parlamento per il semplice motivo che non è stato eletto da nessuno. Sul fatto che ci voglia più pubblico nelle crisi aziendali, qui l'aveva detto Gualtieri in un'intervista da sapore marxista pochi giorni fa, ma la cosa più divertente oggi del Sole 24 ore è come l'Italia non muta. Il fatto che questo sia un governo di sinistra, che pensi che il fallimento del mercato non corrisponda mai a un fallimento dello Stato, che è ben peggiore del fallimento del mercato, ma la differenza tra uno socialista e liberale è pur sempre questa, è l'allineamento dei gran commi di Stato. Oggi è fantastico, mentre il Presidente del Consiglio dice che i Gualtieri dicono che non c'è nulla di male che lo Stato nazionalizzi, chi è che dice che è giusto se il mercato fallige l'intervento statale non è un'eresia? Siniscalco, ex Ministro del Tesoro, oggi miliardario, come tutti quelli, milionario, dirigente di Morgan Stanley e come quelli che sono la ricerca di un posticino di lavoro da parte del pubblico italiano o di un contratto o di una consulenza o di un affare per la sua Morgan Stanley, dà ragione a schiena dritta al Presidente del Consiglio. Toc toc! Siniscalco, fantastica la tua posizione. Secondo te, di cultura anglosassone, il problema dell'Italia è il fallimento del mercato e non il fallimento dello Stato, il problema dell'Italia è il fallimento dei privati e non il fallimento della burocrazia estitale. Secondo te il problema in Italia lo chiede a siniscalco, il problema non è un eccesso di tassazione ma l'evasione fiscale. Secondo te il problema in Italia non è che c'è troppo Stato che fa troppo male le cose che dovrebbe fare, tipo la giustizia e l'amministrazione, ma ci sono pochi privati, è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Ma capisco perfettamente che chi vuole campare con questo Stato e con questo governo, questo deve dire il più ottimista di tutti, forse sul titolo di Repubblica, è dire fare i conti con Conte, questo è inevitabile perché Conte è diventato il leader ovviamente di questo governo senza grande anima. Sull'IVA, Bekis però è stupendo perché spiega, scusami Conte, non fare il fenomeno sulla clausola di salvaguardia di 23 miliardi dell'IVA, toc toc Conte, chi l'ha messa quella clausola? Te, l'hai messa a te, non è il conto del papete come dice il tuo ministro Gualtieri, è il conto semmai di 4 miliardi aggiuntivi in più che avete fatto tu, Di Maio e Salvini per quelle minchiate, aggiungo io, di quota 100 e di reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza c'è un bellissimo fondo di Don Maurizio Ferrara oggi sul Corriere della Sera che dice che una tutela dei più deboli è normale, giusta, ce lo chiedeva anche l'Europa, ma c'era già il re, si poteva migliorare, in realtà voi con reddito di cittadinanza avete voluto ridurre la povertà, fare politiche attive del lavoro, ridurre le disuguaglianze, addirittura aumentare il diritto all'istruzione, cioè con una specie di panacea di tutti i guai. Seconda questione di giornata straordinaria di questo governo che piace ai grillini, ai moralisti, a travaglio, al fatto quotidiano, insomma si dimette un ministro e che cosa fa questo governo? Ne nomina due, al posto di uno ne nomina due, uno è il Movimento 5 Stelle e l'altro del PD. In questo modo, nota Bracalini oggi sul giornale, siamo arrivati a 65 poltrone, il governo che riduce i vitalizi e riduce i parlamentari, aumenta al massimo previsto dalla legge l'esecutivo, 65 poltrone tra ministri, sottosegretari, viceministri, tutti con i propri assistenti, tutti con le macchine blu, tutti con le segreterie, tutti con le loro indennità, tutti con i viaggi, tutto quanto a spese nostre, perché i 65 era necessario dividere tra ministero dell'università e ministero della pubblica istruzione, ma qualcuno mi spiega perché fino al giorno prima abbiamo affidato a Fioramonti un minastero, tra l'altro il Fioramonti che dice quelle cose incredibili che dice, il giorno dopo lo affidiamo a due persone, qual è il criterio se non una spartizione politica? Qualcuno di voi mi ha detto in questa lunga conferenza stampa per quale motivo uno è diventato due nel giro di pochi giorni se non spartizione politica prima repubblica in toto? Nel frattempo il ministro dell'università ha chiesto su un giornale, il messaggero, 10 mila nuove assunzioni nei prossimi 5 anni e sul Corriere della Sera un miliardo di maggiore spese nell'università, tutti questi soldi non vi preoccupate, li pagherà siniscalco il settore pubblico, perché il settore privato non esiste più, perché ci sarà soltanto lo Stato, lo Stato che cosa fa? Assume ricercatori, spende un miliardo per l'università, due miliardi per… e nel frattempo la Coca-Cola decide tutte queste cazzate che dobbiamo finanziare e invece di fare la sua industrietta in Sicilia di portarla in Albania perché non vuole la sugar tax, ma tanto questi qui che cosa gliene frega? Il pubblico, i soldi nascono sull'albero, sono tutti d'accordo che ci vuole più intervento pubblico, è il ministro la prima cosa che dice, duro, a schiena dritta, voglio un miliardo di più e voglio 10 mila assunzioni, ma l'altro si è andato proprio per questo, perché i soldi non glielo avevano dati, è straordinario, messaggero titola, Conte toglie l'università dal Movimento 5 Stelle, sulla prescrizione Travaglio c'è un'idea straordinaria, ve la devo leggere che l'altra querelle, perché dal 1 gennaio tra pochi giorni c'è fine processo mai, in 10 anni sono stati prescritti 1,5 milioni di processi, cioè l'avevano scampata 2 milioni di colpevoli, questo è il senso della giustizia di Travaglio, bisognerebbe spiegargli due cose, che la gran parte dei processi viene prescritta prima addirittura dell'udienza preliminare, cioè in fase istruttoria, come lui ben sa, e seconda cosa, guardate che chi è prescritto non è necessariamente colpevole, per esempio se uno querela penalmente Travaglio e si va in prescrizione, cosa che lui ha richiesto spesso anche se a sua insaputa, e lui venisse prescritto, il fatto che sia prescritto non è automaticamente colpevole di diffamazione, può essere prescritto perché sono passati troppi anni per decidere la sua colpevolezza, ma non è che uno prescritto per diffamazione come Travaglio è necessariamente un colpevole, quindi l'equazione 1,5 milioni di prescritti, 2 milioni di colpevoli è un'equazione che c'ha soltanto qualcuno che c'ha il solito sospetto nell'anticamera del suo cervello. Nel frattempo Spataro, che non è un magistrato qualsiasi e non eccetto un magistrato berlusconiano, dice che l'idea del PD di allentare questa norma spazzacorrotti è del tutto ragionevole e poi dice ancora che prevedere un tempo infinito per i processi non va bene. Toc toc, lo dice Spataro, non Berlusconi, non Zingaretti, non Orlando. Nel frattempo Prodi ci spiega perché negli ultimi 25 anni l'Italia è cresciuta meno degli altri paesi, in particolare negli ultimi 10 il PIL reale, cioè depurato dell'inflazione è sceso do 0,3% in Italia, mentre il salito dell'1,3 in Germania è saluto do 0,9% in Francia, ognuno ha la sua soluzione, quella sua solita di tutti quanti i sinistri cattolico comunisti è quella più tasse e più Stato. Se voi pensate che questo sia il problema dell'Italia, che in questo momento non abbiamo pagato tasse, non abbiamo avuto Stato negli ultimi anni, la pensate come Prodi, Qualtieri, Siniscalco e tutti quelli che vivono di pubblico e sanno che solo grazie al pubblico loro possono campare, ma l'Italia muore. Direi che per oggi è tutto, mi sembra di aver visto oggi sui giornali, ah beh no, stupendo, oggi ce lo ricordo a Giovanni Sallusti, pensate un po' chi sarà la nuova valletta di Amadeus a Sanremo, pagata da Sanremo, la nuova valletta di Amadeus sarà Rula Jebreal, beh io c'ho un fatto personale perché mi disse tu uomo bianco che mi insulti e nel multiculturalismo cazzone dell'Italia, Rula Jebreal, valletta di Amadeus, la donna che insegna si attenta, adesso non so se chiamarla professoressa perché insegna a Miami diritti civili, mi sembra di aver capito a Pezzo Sallusti o valletta, sempre che valletta non sia un insulto sessista, comunque è quello che farà Sanremo, probabilmente. Fantastico oggi invece soltanto l'avvenire si ricorda del fatto che è un tema veramente importante, questo ve lo segnala, che sono esaurite le celle, in Italia ci sono circa 50 mila persone che potrebbero stare legalmente in carcere per gli spazi, per tutti i criteri di ordinare la democrazia di un paese, ne abbiamo 61 mila in carcere, 11 mila persone che sovraffollano le nostre carceri, invece di fare tante pippe costruiamo nuove carceri e immaginiamo che vivere in carcere in questa maniera disumana non va bene. Ciao!